La mia vita è la mia vita 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 Buonasera gente Siamo qui ad intervistare una persona e vediamo cosa pensa lui dell'amore Seguite Come va? Come va? Bene Cosa facciamo? Prima presentalo chi è il signore? Ha detto lo zio Domi Ma perchè lo zio Domi? Eh perchè sono lo zio di tutti Bravo Di tutti così? No così no In particolare Qui è Rai Laghi Ah Rai Laghi Non Relax Rai Laghi E allora Allora stiamo facendo un sottaggio per cosa ne pensa la gente dell'amore Lei cosa pensa dell'amore? E quindi penso che l'amore sia la più bella cosa Pi' forte? Appare appare Felicità Comunque io credo che l'amore sia qualcosa di talmente semplice che ci sia sfuggito di vista E dell'amore di oggi cosa pensa? Credo che c'è l'amore di oggi Certo Però Forse è questione Forse di avere pazienza Forse di non 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 so farlo Basta cercare Basta cercare Eh Forse 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 E a volte No Lei è sposata? No Non sono scusata No assolutamente Come mai? È una storia un po' lunga Magari Scusate se vi interrompo Nella vecchia fattoria C'è? 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 C'è l'ozio Tom? C'è l'ozio Tom? C'è l'ozio Tom? C'è l'ozio Tom e la risata Ecco Adesso Adesso Dopo che abbiamo parlato dell'amore Posso fare una domanda io Anche all'ozio Tom? Sì Prego Cosa è per lei il senso della vita? Il senso della vita? Il senso della vita? Il senso della vita? Eh Cosa è il senso della vita? Vabbè ma qua fa lo detto C'è qualcosa di semplice Però Non è proprio Va bene Abbiamo capito tutto Abbiamo capito tutto Qui da Iopolo Giangascio Eh Like lo zio Tom Allora ci vediamo Al cameraman Al cameraman È spedito E ci vediamo alla prossima puntata E vediamo poi in seguito Ok ciao 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 ciao